ciao a tutti bentornati al canale guardate dove siamo siamo da zara perché siamo venuti a vedere tutte le novità iniziamo subito lo primo che ho trovato o la prima cosa che ho trovato è stata questa felpa qua con la cerniera a 26 26 euro si ha il cappuccio e ci sono altri colori e poi ho trovato questi pantaloni qua così in denim allora questo colore c'è il nero in blu e poi c'è questa maglia qua a 23 euro tra un po ti dico il prezzo del pantalone qua ci sono uguali ma senza la parte di sotto è sfilacciata e andiamo a scoprire il prezzo allora innanzitutto è che io scusa se sbaglio guardate 30 euro se sbaglio l'italiano ragazzi chiedo scusa l'importante è quello che vi state vedendo guardate 10 euro queste male c'è in rosso beige e un grigio guardate quella di colore rosso è molto ma molto scolata davanti questo vi lo dico così lo tenete in conto vedete il beige e il grigio e poi ho trovato questa in colore rosso eccola lì ho una scolatura e dietro ti lascio la foto il prezzo in 7 euro di queste c'erano altri colori nella pagina web e poi qua c'è in bianco e in nero guardiamola bene nel dettaglio la parte di dietro è fatta è così sono uguali cambia il colore poi di qua che cosa ti posso vedere allora questo pantalone sportivo che lo hanno abbinato a quella giacca lì che sinceramente a me non piace con l'abbinamento 23 euro pantalone 40 euro quella giacca così gessata e poi qua c'è questa felpa che dice florida costa oeste non ho letto bene il prezzo 26 euro prima che mi scordi quale misura va dalla xs fino alla xl ogni tanto c'è la s la m la l ma dipende dal modello va bene non lo so sono cose da loro vediamo questa maglia qua di colore blu il prezzo 8 9 euro e l'hanno abbinato questo pantalone non lo so che che ha messo questo così a me sinceramente non piace con l'abbinamento 30 euro poi le scarpe queste quasi che sono carine guardate 30 euro sono carinissime in colore rosso non l'ho visto in altri colori soltanto colore rosso un po scolate dietro e a questo fiocco sono due fiocchi così il tacco così sono carine e poi il colore rosso è molto ma molto in tendenza quest'anno se il video vi sta piacendo regalatemi un like ok continuiamo qua con questo vestito in denim molto molto carino e dietro è così poi ho trovato questa felpa che a me è piaciuta il modello mi è piaciuto davvero guarda 22 euro mi è piaciuto proprio il modello se fosse tutta bianca sarebbe bella guardate per 26 euro ti porti via quest'altra maglia top e qua c'è questa borsa che me ne sono innamorata e adesso vi dico perché non l'ho presa ragazzi guardate che carina con quelle borche è molto molto bella non l'ho presa perché non ha la cerniera costa 30 euro e c'è un altro colore ho chiesto se c'era il nero ma la commessa mi ha detto di no soltanto questo colore questi due colori qua comunque sono belle poi un'altra maglia questa 8 euro semplice vedete e poi andiamo a vedere che altro c'è qua questi sono tipo e sono body e tipo tanga vedete la parte di sotto c'è in verde in nero in questo azzurro allora il prezzo 13 euro e poi ho visto questa questa borsa prezzo 20 euro è troppo larga per me è carina questo animal print e anche in tendenza e poi è questo questa collanina così di perle in 20 euro mi è piaciuto andiamo a vedere questi top così tutti sono tutti duri vedete è carino dai carino e asimmetrico la parte di sotto e il prezzo vediamo se ti posso dire se no ti lo lascio qua c'è in colore nero e anche in colore blu blu scuro tra un po e ti lo faccio vedere alla cerniera e di lato ecco qua l'altro colore eccolo lì è un blu vedete io all'inizio pensavo fosse grigio e il suo prezzo è 18 euro qua c'è questo cardigan e iniziano i cardigan a versi in giro 26 euro ha lì il bottoncino vedete se per caso uno di questo casca almeno c'è la scorta ci sono due tasche e mi è piaciuto il tatto c'era anche in nero e poi in questo rosa non lo so voi ragazzi però questo rosa per l'autunno no ok poi qua ho trovato questi sandali troppo ma troppo alti e carini così e lucide davanti 30 euro il suo prezzo si allacciano sulla caviglia il tacco così come se fosse di metallo e poi più piatti questi qua carini questi io te le consiglio con e gonne o con vestiti lunghi vedete sono carinissimi a me sono piaciuti il prezzo 30 euro se non erro 26 euro chiedo scusa sono carini dai belle e poi se c'è qualcosa in tendenza quest'anno e l'animal print leopardato queste qua in 26 euro poi ci sono questi qui anche in 26 euro e queste e la parte dietro così sono carinissimi belle queste mi sono piaciute e qua ho trovato questa borsa tutta da sola 20 euro e che questo animal print sta molto molto in tendenza ragazzi poi qua sotto altri sandali così piatti con una fibbia il prezzo 30 euro questi bianchi qua eccole qua in nero e queste guardate che carine di colore rosa carinissimi il prezzo 30 euro molto molto carine e questo vestito allora ragazzi io sono sincera per me questo è primaverile più che autunale primaverile però va bene mi degusti ragazzi il prezzo 36 euro e poi ho visto questo in 30 euro di colore blu carino vedete questo sì che un po' non lo so ragazzi questi colori sono per me sono primaverile ok poi continuiamo più animal print le ho parlato qua guardate questo questa borsa mi è piaciuta molto solo che a me quella mi si apre e casca tutto per terra 80 euro ragazzi non lo so io non darei 80 euro però guardate ci sono i pelletti che carino non darei 80 euro perché a me questa cosa casca cioè non ha nemmeno una fodera dentro magari fuci fosse e poi sempre animal print con i pelletti questi qua in 30 euro la parte dietro stampata quindi i pelletti ne ha davanti e questi qua carini con tanto lucchicchio carini in colore e newt e 40 euro carini queste mi sono piaciute ragazzi che belle allora continuiamo perché ho visto queste in paillettes anche 40 euro no sono più carini quelle che ti ho fatto vedere prima sì sì va bene degustibus si rispettano e queste qua con il fiocco dietro oh mamma mia che cosa più bella c'è soltanto questo qua dove dobbiamo stare attenti che non esca un dito quante volte non abbiamo visto e guardate la punta la punta del taco è piatta così non traballano guarda 36 euro da stabilità va bene ragazzi il video finisce così io spero che vi sia piaciuto se è così e volete che continui a venire qua a zara dovete lasciare un like iscriverti al canale o magari un commentino io vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente in un prossimo video ciao